Il primo, del suo genere, è un barlume di speranza per una specie a rischio. Maya è il primo lupo artico clonato al mondo, secondo gli scienziati cinesi. È nata utilizzando campioni genetici di un'altra lupa dell'Artico, chiamata anch'essa Maya, e è morta dieci mesi fa. L'embrione si è sviluppato nel grembo di un beagle. Ora il cane sta interpretando il ruolo di madre surrogata. Il lupo appena nato ha lo stesso genoma del lupo originale, ma l'esemplare clonato non ha convissuto con altri lupi, ma con un cane. Infatti per cani e gatti clonati c'è un problema di socializzazione precoce. Quanto più rapida è questa socializzazione, tanto più stabile ed equilibrato sarà l'animale. La società di genetica dietro al progetto afferma che si tratta di un'importante svolta nella tecnologia genetica che può aiutare alla conservazione delle specie in via di estinzione. Tuttavia la clonazione rimane controversa, con alcuni membri della comunità scientifica che sollevano questioni etiche e pongono domande circa l'impatto sulla biodiversità.